ciao sono marco nel video di oggi parleremo di partita iva contro lavoro dipendente questo è un argomento molto discusso e molto dibattuto da sempre dirai oserei dire ci tengo a esprimere quella che è la mia opinione a raccontare anche un pochettino la mia esperienza giusto con l'auspicio di poter dare un aiuto a te che magari sei indeciso non sai bene che cosa fare nella tua vita e stai pensando se è meglio cercare un posto fisso oppure andare ad aprire quella che è la partita iva buttarsi nella cosiddetta imprenditoria bene per raccontarti brevemente la mia storia senza soffermarmi più di tanto io ho iniziato come lavoratore dipendente dopo essermi diplomata a scuola ho iniziato immediatamente a lavorare come dipendente passati un po di anni diciamo che ero arrivato ad un livello un po di piattume diciamo così quindi la mia routine era diventata un po sempre la stessa cosa è successo che nello stesso tempo non so se è un caso oppure dicono appunto che la fortuna delle persone sta a chi se la va a cercare comunque nello stesso tempo l'azienda per cui lavoravo attraversava un periodo di crisi sempre in questo stesso momento io mi ero un po affacciato su quella che era appunto la crescita personale nuovi mondi mi si erano dispiusi davanti quindi andavo a vedere un pochettino mi sono iniziato diciamo a guardarmi un po intorno ho iniziato a dire ma se il lavoro che ho se il posto fisso che ho dovesse andare male che cosa ho in mano cosa posso fare cosa posso ottenere nella mia vita e diciamo che appunto come detto poco fa chi cerca trova probabilmente e appunto seguendo vari corsi di formazione informandomi in giro eccetera ho quindi deciso di lasciare il mio lavoro per appunto aprire quella che era la mia prima partita ipa ricordo sin da subito che e questo mi era già successo dopo due o tre mesi di lavoro avevo capito una cosa fondamentale il lavoro dipendente ti dà mettiamo tra virgolette la certezza di avere uno stipendio fisso tutti i mesi di avere un lavoro diciamo un appunto dei soldi dei pagamenti tutti i mesi alla fine di ogni mese con la possibilità di aumentare seguimi molto bene di aumentare quelli che sono i tuoi guadagni grazie diciamo a quelli che sono gli scatti di maturità nel tempo che avvengono negli anni eventuali possibili ma anche no aumenti che il datore di lavoro può decidere di darti comunque diciamo che diciamo l'aumento della tua paga si aggira su qualche forse qualche centinaia di euro ogni due tre anni poi dipende tantissimo dal contratto comunque diciamo che l'aumento della tua paga è relativamente chiamiamolo così lento diciamo che ecco non segue l'inflazione ok quindi senza ad entrarmi troppo nei particolari pensa quanto costavano le cose anche soltanto dieci anni fa pensa quanto costano oggi pensa quanto costeranno le stesse identiche cose tra dieci anni ok quindi il tuo stipendio non seguirà quello che è l'inflazione del tempo ok la prima cosa appunto che ho detto prima di cui mi sono reso conto immediatamente nell'arco di appunto di pochi mesi è che con grazie alla partita iva comunque nel momento in cui tu sei imprenditore libero professionista imprenditore di te stesso i tuoi guadagni possono verosimilmente diventare illimitati ci può essere il mese che guadagni naturalmente meno ma ci può essere anche il mese che guadagni due tre quattro volte io ricordo che appunto come come ho detto poco fa mi pare il terzo mese avevo emesso una delle mie prime fatture che era esattamente quattro volte tanto quello che guadagnavo mensilmente nel lavoro precedente quindi i guadagni con grazie alla partita iva quindi grazie all'imprenditoria sono potenzialmente limitati d'accordo mentre invece diciamo hai con un lavoro dipendente hai la sicurezza da un lato ma hai anche la sicurezza che la paga resta sempre quella ok che quindi quello che stai guadagnando difficilmente aumenterà difficilmente cambierà ok hai certi tipi di tutele che appunto con l'imprenditoria con la partita iva non hai ma quello che a me aveva fatto proprio scattare tutto quanto era il semplice fatto che appunto con la partita iva i guadagni tuoi sono potenzialmente limitati state alla tua abilità le tue skill e parlo tantissimo di queste cose nei video sul mio canale che ti consiglio di infatti di seguire e quindi da qui tu puoi costruire sei padrone di te stesso e poi costruire ciò che tu vuoi qualunque cosa tu possa immaginare e poi ottenere i guadagni che desideri applicandoti ovviamente imparando skill facendo tutto quello che c'è da fare tirandosi sulle maniche lavorando duro lavorando sodo però i tuoi guadagni sono potenzialmente infiniti ecco come già i due mondi sono completamente diversi tra di loro sono due due realtà completamente opposte tra di loro ok altra cosa che appunto riguarda questi questi due mondi è appunto il discorso delle tutele ok con un contratto di lavoro abbiamo magari ferie pagate abbiamo un po di tutele abbiamo mutuo abbiamo un sacco di cose se ci sono gli infortuni eccetera cosa che non abbiamo con la partita iva io ti sto mettendo davanti tutte le cose possibili immaginabili però data la mia esperienza ti domando a parte che come ti ho raccontato non è detto che il posto fisso sia una certezza perché le certezze non esistono come come ti ho detto appunto in l'azienda per cui lavoravo io stavo attraversando un periodo non non veramente bello quindi probabilmente sarei rimasto a casa ok sarei rimasto lo stesso a casa e sarebbe stato lo stesso un problema ok quindi magari mi ritrovavo lo stesso senza lavoro con la partita iva certo è vero che i clienti il lavoro te lo devi procurare devi tu trovarti lo devi fare in modo che appunto ci siano ci sia del lavoro per te o per i tuoi eventualmente collaboratori qualora tu poi iniziassi ad averne bisogno se il lavoro diventa tanto potresti pensare di appunto andare a aumentare quelli che sono i tuoi collaboratori però devi tenere presente ecco voglio sfatare un altro mito di cui si parla spesso ma sì ma con la partita iva spesso poi ci sono un sacco di tasse si muore dalle tasse vieni seppellito dalle tasse allora io non sono un commercialista non voglio in questo video addentrarmi in questo diciamo in questa miriade in questo super discorso relativo a tasse e quant'altro quello che ti posso dire ci sono delle percentuali ci sono dei conti che si possono fare quindi si pagano le tasse sulla percentuale di quanto è fatturato al netto delle spese quindi situa dei costi vengono sottrati questi costi vengono così contate viene contata la tassazione non voglio scendere appunto nei particolari come ho già detto quello che posso dirti è che si sopravvive ok si possono pagare le tasse si può sopravvivere la differenza sostanziale per per farti capire proprio in maniera semplice semplice se stai cercando di affacciarti a questo mondo è che con il lavoro dipendente quindi con una busta paga quello che tu ricevi è già al netto delle tasse cioè le tasse vengono pagate prima dal tuo datore di lavoro il datore di lavoro ti dà a te quello che è il netto ok quindi quello che ha pulito mentre invece con la partita iva fondamentalmente tu prendi tutto quanto il lordo e poi devi tu sottrarre la parte di tassazione quindi la parte che va data in tasse detto questo come ho già detto non cambia nulla fondamentalmente non c'è gente che si impicca non esistono non esistono motivi per non sopravvivere senza pagare le tasse anzi si sopravvive tranquillamente che cosa bisogna imparare bisogna imparare a gestirsi naturalmente ok non è questo l'argomento non è questo il video dei cui parlarne però bisogna imparare a gestirsi bisogna sapere come quando ci sono le scadenze durante l'anno si sa prima si sanno tutti gli anni quando sono certe scadenze e basta essere preparati per poter appunto pagare tranquillamente le tasse senza avere appunto brutte sorprese senza avere niente di che da di che insomma da avere problemi poi con le tasse però è una cosa diciamo che si supera tranquillamente basta saperla gestire e non ci sono problemi quindi ci tengo appunto a dirti che se hai sentito dire in giro che appunto ma poi con tutte le tasse che ti arrivano da pagare ma come fai è un calcolo percentuale ok né più né meno ci sono dei conti ti consiglio di chiedere a un commercialista di informarti attraverso dei commercialisti che tipo magari di azienda di partita IVA tu puoi aprire che tipo di regime puoi ottenere e che tipo quindi di tassazione che percentuale di tassazione puoi avere in questo caso quindi non farti intimorire da quelle voci che senti in giro informati e fai la tua scelta mi auguro per te che sia la migliore scelta per te quindi che sia la scelta che ti porterà quello che desideri e quello a quello che desideri rifletti molto bene appunto sulle due cose se lavoro dipendente o appunto partita IVA e quindi imprenditoria freelance o imprenditore di te stesso e non voglio rubarti altro tempo per oggi e quindi ti chiedo di lasciarmi qua sotto nei commenti scritto che cosa ne pensi tu che cosa stai facendo se hai un lavoro se hai un posto fisso se stai cercando un posto fisso oppure se vorresti magari aprire la tua prima partita IVA ma hai paura non sai bene come fare i primi passi come muoverti eccetera e sarò lieto di risponderti in ogni caso se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao